Anticipazioni puntata Il segreto di sabato 19 novembre 2016 Severo e Carmelo hanno paura che il giudice si lasci influenzare da fattori esterni e che per questo motivo possa non accogliere le richieste fatte dagli avvocati di Lucas. Ramiro Castaneida alla fine decide di rimanere a Puente Iviaio e di conseguenza va alla Puebla per ritirare in banca tutti i suoi soldi. Alfonso, pur di dare a Hortensia il denaro richiesto, segue il fratello Ramiro per derubarlo.